ciao a tutti ragazzi e raccomi qua sono megateaker quest'oggi sono molto fiero di portarvi un oggettino che a me sta piacendo veramente tanto lo trovo utile è vero è un po costoso ma del grosso potenziale in diverse occasioni prima di andare a unboxare fare le dovute prove e sperarvi un attimo cosa abbiamo davanti vi invito che non lo faccio mai inizio video ma d'ora in poi lo farò sempre perché in fondo non ci arriva nessuno di iscrivervi sul mio canale telegram dove di tanto in tanto vi segnalerò l'uscita dei video ma soprattutto quelle che sono delle offerte interessanti su alcuni articoli che potrete trovare scontati appunto su amazon non state a preoccuparvi non è uno di quei canali dove spammo milioni milioni di messaggi come avviene spesso in questi gruppi telegram è una cosa che faccio io manualmente quando trovo qualcosa di interessante lo metto dentro ma come vi dicevo non sarà una cosa invasiva detto questo ragazzi ecco qua il mio pacchetto qua davanti adesso vi spiego cos'è l'oggetto lo andiamo ad unboxare e come dicevo poi facciamo qualche prova ebbene quindi di cosa stiamo parlando di un trasmettitore un ricevitore wireless che permette tramite wifi 2.4 e 5 gigahertz di trasportare contenuto video e audio da un dispositivo al vostro monitor o nostra televisione andiamo un attimo subito ad unboxare il prodotto per vedere la nostra iewa cosa ci fornisce in dotazione col prodotto ebbene vediamo subito un libretto di istruzione sono certo al 100 per cento che da qualche parte infatti si trovi anche l'italiano dentro poi la confezione abbiamo la saponetta che attraverso porta come vedete hdmi permette di essere collegata ai vostri dispositivi a una fotocamera a un computer e comunque a tutto ciò che prevede uscita audio e video tramite hdmi o come nel caso della mia fotocamera attraverso la micro hdmi che poi vedremo come collegare alla saponetta andando avanti nell'unboxino vedo un sacco di bustine qua sotto che sono semplicemente l'alimentatore eccolo qui e tutti i suoi adattatori per poterlo utilizzare in tutte le parti del mondo o comunque almeno avere questi tre standard elettrici ovviamente nel nostro paese utilizzeremo questa la spina classica si va a inserire in questa maniera giriamo verso destra ecco lì un clac e abbiamo il nostro alimentatore bello co e configurato andiamo ancora a vedere la scatola ebbene qua il pezzo forte il nostro ricevitore completamente in materiale metallico molto molto elegante abbastanza piccolino come ricevitore nella parte posteriore come vedete c'è un'uscita vga se lo volete e lo dovete collegare a un vecchio monitor ma c'è anche l'uscita più moderna hdmi qui alla sua sinistra abbiamo poi l'alimentazione come vedete usb type c perché questo oggettino andrà sempre e comunque alimentato mentre invece poi qui a sinistra abbiamo un'uscita jack da tre e mezzo direi se volete invece che trasferire l'audio alla televisione trasferirlo a un paio di vostre cuffie queste due viti questi due allacci invece sono per le antenne antenne che andiamo a trovare in confezione antenna ovviamente orientabile andiamo un attimo a montarci alla sopra nulla di più semplice dobbiamo avvitarla e una volta avvitata possiamo come vedete orientarli un po a nostro piacimento prendiamo un attimo la seconda antenna che si trova nella scatola andiamo a montare un attimo anche lei per farvi vedere come è questo ricevitore appunto con le sue due belle antennine non l'avevo visto da questa parte c'è anche un interruttore on off sulla parte superiore c'è questa pellicolina probabilmente qua c'è un display ci saranno delle lucine di segnalamento di qualche stato ricezione eccetera lo vedevo una volta acceso e sulla parte inferiore abbiamo i quattro gommine antiscivolo una piccola fessurina grigliata per la dissipazione del calore e direi a parte questo dato di targa non c'è null'altro da segnalare andiamo un attimo quindi a vedere gli ultimi tre piccoli contenuti la scatola come vedete ormai è vuota all'interno della stessa troviamo un cortissimo cavo hdmi ovviamente in moltissime anzi secondo me in quasi tutte le configurazioni in cui lo dovrete usare questo cavo vi servirà a ben poco perché è veramente veramente cortissimo ad ogni modo se lo riuscirete ad utilizzare avrete sicuramente un vantaggio in termini dispersione del segnale ma non preoccupatevi se vi serve un cavo più lungo è assolutamente sostituibile abbiamo poi i due cavi usb type c usb type a uno che serve per andare ovviamente ad alimentare come vi dicevo il vostro trasmettitore lo colleghiamo in questo modo ovviamente al suo alimentatore dopodiché invece l'altro serve per la saponetta qualora l'hdmi d'uscita del nostro dispositivo non fosse in grado non avesse gli standard per passare corrente attraverso appunto l'hdmi e alimentare la saponetta stessa in quel caso appunto dovrete munirvi di un altro alimentatore usb type c anche da questa parte saponetta che mi soffermo un secondo a farvela vedere ma immaginavo un po più piccola sinceramente ad ogni modo tastone per avviare la trasmissione grigliette forellini per la dissipazione del calore il materiale è plastico uno ring tutto intorno per non farla scivolare e anche in questo caso due dati di targa stampigliati qui dietro e direi nulla più prima di passare a una prova pratica vi voglio far vedere cosa ho già comprato perché come vi dicevo comunque come qualcuno si sarà accorto l'uscita della nostra saponetta è hdmi semplice quella grossa mentre invece ad esempio una macchina fotografica potrebbe avere bisogno di uno spinotto micro o mini hdmi comprato su amazon e ve lo lascio ovviamente anche quello in descrizione potrete andare in questo modo a collegare la vostra saponetta spinottino più piccolo mi sembra questo il micro hdmi mi confondo sempre tra micro e mini ad ogni modo lo potete attaccare alla vostra fotocamera e utilizzare questa saponetta per trasferire quello che state vedendo nello schermetto mentre fate riprese a un monitor o una televisione tramite il suo supportino ancora una cosa ragazzi vorrei segnalare prima di passare un attimo alla prova pratica farvi vedere velocemente come si collega questo ricevitore è in grado di ricevere più segnali di più saponette quindi ad esempio chi lo usasse per videoconferenze riunioni di lavoro o quant'altro potrebbe mettere questo attaccato alla televisione ovviamente su amazon vendono più saponette e mi sembra non vorrei sbagliarmi che fino a otto saponette il dispositivo è in grado di ricevere il segnale contemporaneamente ancora l'ultima precisazione poi passiamo alla prova pratica se non avete la saponetta se ce l'avete rotta non la trovate o comunque per semplicità volete collegare un telefono al vostro ricevitore ebbene sì lui funziona anche da dongle ricevitore in miracast quindi sarete in grado di configurare la trasmissione del video direttamente tra telefono e il vostro ricevitore ma adesso rimanete un attimo insieme a me vado un attimo a fare i vari collegamenti lo andiamo a vedere velocemente insieme per poi passare a conclusioni finali a fine video ebbene ragazzi intanto vorrevo farvi vedere una cosa ho collegato il mio ricevitore direttamente alla televisione tramite uscita usb adesso qui è difficile farvi vedere ma ad ogni modo questo cavo è l'alimentazione direttamente dal televisore qua sotto invece ho collegato l'hdmi e così facendo appunto possiamo utilizzare il nostro ricevitore direttamente alla televisione o al monitor se è dotato di presa usb senza dover per forza passare attraverso l'alimentazione attaccata alla corrente intanto come vi dicevo prima ebbene sì questa è la barra di stato molto carina una volta acceso avremo un feedback sullo stato del ricevitore direttamente qua sopra ok ragazzi preso il mio pc vi faccio adesso vedere come attraverso la saponetta trasferiremo il nostro video alla nostra televisione in questo caso però ho dovuto collegare l'alimentazione alla corrente elettrica perché evidentemente questo pc non è in grado attraverso l'hdmi di alimentare in maniera corretta la nostra saponetta questo ovviamente non dipende dalla saponetta stessa ma dipende ripeto dallo standard hdmi che abbiamo sul nostro apparecchio trasmettitore di segnale ad ogni modo scusate l'inquadratura ma non riesco a fare di meglio schiaccio il mio tasto sulla saponetta ed ecco lì che il video appare quasi istantaneamente sul nostro televisore andiamo poi un attimo a cliccare play per farvi vedere quanto è sincronizzato il video trasmettitore col video appunto ricevuto dalla televisione ritardo minimo fruibile assolutamente nella maggior parte dei casi ovviamente se stiamo parlando di un videogioco ad esempio di uno sparatutto quant'altro e beh in quel caso in ritardo questi millisecondi che vedete dal passaggio dell'immagine del computer che trasmette e la televisione che riceve evidentemente potrebbero risultare un po troppo alti ad ogni modo per giochi normali e altri tipi di applicazione come ripeto la trasmissione semplicemente di contenuti sulla televisione film contenuti digitali tabelle excel da proiettare durante il lavoro o quant'altro direi che il risultato è veramente soddisfacente vi ricordo che l'apparecchio è in grado di trasferire il segnale video in 4k quindi anche ottima definizione ma adesso state ancora un secondo con me andiamo a provare la trasmissione tramite cellulare come vi dicevo senza l'ausilio della sua saponetta ebbene ragazzi come vedete sullo schermo sul monitor sulla televisione come collegherete il vostro ricevitore wireless avremo le informazioni di una rete wifi una password e un diritto ip per poter collegare appunto direttamente senza saponetta alcuni dispositivi in questo caso andrò a collegare il mio telefono ecco qui che la rete wifi della iewa viene visualizzata sul telefono basterà andare a mettere la password che in questo caso semplicissima è 12345678 e potremo andare a collegare autenticare l'ip della nostra rete bene una volta collegato dispositivo a iewa andiamo ad esempio nelle impostazioni dispositivi connessi condivisione schermo faccio attiva ed ecco lì che mi parte una ricerca verso tutti i dispositivi che possono accogliere la ricezione del video io seleziono iewa andiamo in connessione ed ecco lì che dopo un attimo per stabilire la connessione dispositivo connesso come vedete e a questo punto tutto quello che faccio sul mio cellulare posso ovviamente rivederlo prodotto sul mio televisore supporta anche ovviamente l'orientamento del telefono vedete io lo metto in orizzontale e la televisione me lo riproduce esattamente a pieno schermo un'altra applicazione ragazzi può essere tranquillamente appunto quella di collegare una switch ricevitore come prima collegato alla televisione andiamo a mettere la nostra switch nella sua basetta dietro abbiamo collegato la nostra saponetta alla porta hdmi della nostra switch se io vado a premere la mia saponetta lei in questo momento non sarà completamente in grado di trasferire il segnale in maniera corretta e la saponetta come vedete può lampeggiare di blu che sta ad indicare che ha bisogno di una alimentazione anche in questo caso dovremo quindi prendere il nostro alimentatore collegare usb type c e una volta alimentato la trasmissione al nostro televisore come vedete assolutamente funzionante in questo momento tra l'altro guardate il ritardo non è neanche una cosa veramente impossibile da gestire anzi direi che sembra assolutamente buono in questo momento come vi dicevo switch collegata alla nostra saponetta saponetta che trasmette in modalità wireless al nostro ricevitore e quindi di conseguenza al nostro tv ebbene ragazzi tornati sulla mia scrivania come avete visto gli utilizzi di questo accessorietto sono veramente molteplici sembra anche funzionare veramente molto bene credevo avesse molto più lag collegandolo a una piattaforma da gaming in realtà al di là di quello che avete visto nel video ho anche provato e testato un po più a lungo il prodotto sulle mie console vi posso dire veramente che se non dovete andare in competitiva e vincere un torneo per la maggior parte dei videogiochi potrete anche tranquillamente usufruire di questo accessorio e non avere rovinata l'esperienza di gioco non vi ho fatto vedere il collegamento della saponetta a una videocamera per trasferire appunto quello che si vede dalla videocamera ad esempio quello che sto vedendo adesso io in uno schermo grosso mentre fate le riprese ma come vi dicevo attraverso questo piccolo accessorietto lo potrete fare funziona tutto a meraviglia e quindi ragazzi che dirvi di questo accessorio a fine video se non assolutamente consigliarlo il prezzo effettivamente è alto se gira mi sembra intorno ai 150 euro vi lascerò giù in descrizione un codice sconto per poterlo comprare scontato su amazon e ovviamente nei prossimi giorni mi diletterò a scoprirne altri utilizzi mentre parlavo mi stava venendo ad esempio in mente che attraverso una chiavetta amazon o comunque un decoder potrete trasferire il video dalla postazione fissa del decoder magari in un'altra stanza senza necessariamente portare cavi e cavettini appunto nella stanza dove avrete il vostro televisore quindi ragazzi per questo video è tutto se vi è piaciuto ovviamente lasciate il solito like iscrivetevi al canale accendete la campanella se volete supportare il canale da un po di tempo a questa parte super grazie il tastone dove potrete fare qualche donazione a vostro piacimento noi ovviamente ci rivediamo qui sul mio canale mega ticker ancora un salutone ci vediamo alla prossima e ciao